Cari amiche e cari amici, buonasera, siamo arrivati alla fine di questa serie dedicata al fascismo e possiamo tirare le somme cercando di capire cos'è stato questo fenomeno sul piano storico, la sua possibile eredità, i suoi rapporti più in generale con il processo di modernizzazione. A questo abbiamo intitolato la serie Fascismo e modernità. Non si tratta di un capriccio per beghe fra storici, ma di qualcosa che riguarda molto più da vicino la nostra visione del mondo e del nostro presente. Pensate un po'. Cosa ci cambia considerando il fascismo non più nel breve periodo in cui è stato al potere il ventennio e non più solo in Italia, ma su un piano quantomeno europeo, ma dovremmo dire mondiale, anche se il Giappone non è esattamente un esempio di regime fascista. Ma comunque cosa ci cambia questa idea di considerare il fascismo in un arco di tempo molto più lungo, quasi un secolo, di quella che noi abbiamo definito la seconda modernità. Si tratta di qualcosa di più complesso, non solo ci permette di cercare radici molto più profonde di quelle nel passato vicinissimo, prossimo della guerra o al limite dell'interventismo della guerra di Libia. No, è un fenomeno molto più complesso e molto più europeo, tant'è vero che abbiamo insistito sul ruolo per esempio della Germania che pure conoscerà, ma un po' in ritardo rispetto al fascismo, un regime di tipo fascista. Bene, come sapete c'è una vulgata che è quella suggerita da Benedetto Croce per la quale il fascismo sarebbe stato una parentesi nel cammino verso la libertà che l'Italia aveva intrapeso con il risorgimento, una sorta di incidente di percorso causato dalla guerra, forse da qualche errore della classe politica, ma che comunque è stato superato e che ha poi visto la ripresa di quel cammino verso la libertà. Guardate, c'è un canone molto simile, adesso vedremo, a livello internazionale che è quello che riguarda la modernità. Il canone storico, ufficiale, quello che tuttora prevale, anche se devo dire abbastanza in crisi, abbastanza discusso dagli stessi sociologi che un po' lo hanno inventato, non solo loro però, il canone sulla modernità che pensa che è il canone classico, che in fondo la modernità è stato un processo continuo, più o meno spontaneo, naturale, che ha portato allo sviluppo di alcuni paesi prima di altri. Questo processo ha avuto un carattere continuo, se non in parte per il sorgere di modelli di modernità, ma adesso vedremo se si tratta di questo, di modernità imperfetta, quella appunto dei paesi late comer, cioè degli ultimi arrivati che hanno intrapreso un progetto di modernizzazione. Ecco, vedete c'è già questa cosa su cui dobbiamo tornare, la differenza fra modernità e modernizzazione. Ecco, questi paesi, late comer, per recuperare il ritardo rispetto agli altri hanno sviluppato un progetto basato su due cose, un progetto accelerato che quindi doveva prevedere una stretta interna necessariamente e nello stesso tempo un progetto basato su un modello, su un'idea di politica di potenza. Non era possibile sviluppare la modernità dei paesi ultimi arrivati se non misurandosi sul piano della potenza con i paesi già sviluppati. Questa idea di modernità accelerata e autoritaria necessariamente sarebbe stata poi sconfitta che sia pure in due tappe. Nel 1945, quando sono state battute le potenze fasciste, mettiamo fra queste anche il Giappone, e 1989-90-91 con il crollo dell'URSS e quindi con il progetto di modernizzazione cosiddetto comunista. Insomma, un'altra parentesi. Il progetto di modernizzazione auspicato dalle potenze fasciste dai latecomer era un progetto. Era un progetto sbagliato fin dall'inizio, ma insomma alla fine è stato battuto. E quindi alla fine dello scontro il modello classico ha vinto, si è riaffermato, anche se in due tappe. e quindi siamo alla fine della storia perché si conferma che l'unico modello funzionante è il modello classico, quello occidentale di Olanda, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Il modello unico per il quale il futuro può realizzarsi solo come imitazione di quel modello. Qui cominciamo a apprezzare una cosa. Ho già detto che ci sono due termini spesso scambiati per sinonimi, non lo sono. Modernità e modernizzazione. La modernità, che tanto per cominciare ha avuto un significato piuttosto generico all'inizio, l'idea del modus, dell'ora, ma su questo forse varrà la pena fare una serie specifica. La modernità è stato il processo più o meno spontaneo della prima fase della modernità, quella che va sostanzialmente dalla fine del Quattrocento fino alla metà dell'Ottocento, quei quattro secoli, grossomodo. Invece dopo abbiamo visto che ha cominciato ad affermarsi un altro tema. Già la poter parola modernità assume questo significato organico nell'Ottocento, non prima. C'è qualche sentore nel Settecento con, per esempio, Montesquieu. Ma sostanzialmente proprio l'idea di un modello di civiltà moderno, e per cui l'Occidente moderno è la modernità occidentale europea, è un'idea del XIX secolo. Quello che farà dire a Marx i paesi più avanzati mostrano ai paesi più arretrati il loro futuro, come saranno. Perché l'idea è che la modernità è un processo lineare ed unilineare, quindi tendenzialmente ripeterà il ciclo tendenzialmente, magari con qualche accelerazione o meno, ma insomma nel complesso. E quindi si arriva con questa concezione ai nostri giorni quando il neoliberismo sancisce la vittoria del modello classico. Tutto questo si basa su questa idea, su questa suggestione di una storia lineare. In realtà, per cui naturalmente chi si è discostato da questo modello e ha operato una frattura, era condannato al fallimento dall'inizio ed esprime un modello sostanzialmente illegittimo. E quindi da questo per esempio noi vedremo lo scontro, ci torneremo un attimo, alla fine del secolo scorso, fra Francis Fukuyama, che teorizza appunto questo, e lo scontro di civiltà di Huntington, che invece comincia a avere qualche dubbio su questa idea e dice ma insomma non è detto che la modernità significhi la trasformazione in senso occidentale degli altri continenti, degli altri modelli di civiltà. Ma lasciamo da parte queste questioni più vicine, magari faremo qualche considerazione alla fine, ma veniamo al nostro tema. Dunque la modernità, come ho detto, è pensata come processo lineare, unilineare e, cosa importante, senza soluzioni di continuità. Perlomeno il modello classico non fa altro che svilupparsi su se stesso reagendo e addirittura sconfiggendo poi i modelli alternativi. Quindi non c'è soluzione di continuità. La modernità che noi viviamo oggi è quindi di progetto di globalizzazione non è altro che lo sviluppo di quel modello classico che pensava alla modernità come a un insieme coerente di fenomeni. Hai l'industrializzazione, lo sviluppo tecnico-scientifico, quindi la tecnologia, quindi l'industrializzazione, quello determina l'urbanesimo, quindi il progetto di Stato nazionale, quindi la democrazia, Stato nazionale rappresentativo, quindi la secolarizzazione, eccetera. E quindi si tratta di un processo in qualche modo inevitabile, perché se vuoi lo sviluppo tecnico devi beccarti di tutto il resto. E questo determina una condizione nella quale siamo tutti immersi. La modernità e questo modello di modernità ha ormai conquistato il mondo. È l'idea di Fukuyama, come dicevo prima, che teorizza che il modello di società occidentale è il punto d'arrivo della storia. Certo succederanno ancora molte altre cose importanti, ma attenzione non c'è un modello migliorabile. Questo è già il punto d'arrivo della storia. Perché? Perché questo è insieme processo e progetto. È processo perché inevitabilmente lo sviluppo tecnologico, eccetera, comporta a ricaduta tutta questa ulteriore serie di fenomeni. Ma nello stesso tempo, e quindi si arriva al modello di democrazia liberale, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo è progetto perché i paesi, le potenze che sono arrivate a questo risultato, fanno da locomotiva da traino. E quindi, questa è stata l'idea all'inizio del processo della globalizzazione, modernità uguale occidentalità e quindi modernizzazione uguale occidentalizzazione, cosa sulla quale, devo dire, un po' più accortamente Fukuyama cominciò ad avere dei dubbi. in realtà, no, le cose non stanno andando in questo modo, i sociologi hanno tentato di metterci una pezza inventandosi la teoria delle modernità plurime, sì che in realtà non significa niente perché anche il feudalessimo ha avuto plurime espressioni e realizzazioni, però questo ancora non definisce il fenomeno lo descrive piuttosto illimitatamente. Torniamo quindi a noi. Il fatto è che la prima smentita a questa idea del canone modernista è nata proprio dalla seconda modernità. Abbiamo detto che la modernità è pensata dal canone classico, dalla bugata classica, è pensata come processo senza soluzione di continuità e invece non è così. Non solo per la comparsa dell'elite camera con il loro modello autoritario, accelerato, militarista, eccetera, ma per altre caratteristiche della modernità. Prima di tutto proprio dalla comparsa dell'idea di modernizzazione per cui è quello che deve essere un processo naturale comincia a diventare progetto volontaristico. Secondo, perché non risolve i problemi della modernità classica, la seconda modernità, ma anzi li esaspera. I punti critici della modernità sono tutti esaltati. Ad esempio il conflitto, ne abbiamo parlato a proposito della Germania, fra potere finanziario ed economia reale che vedrà un progressivo prevalere della finanza sull'economia reale, ma anche lo scontro di classe sul suo forte inasprimento che avrà una serie di conseguenze. Per esempio, insieme alla tendenza all'imperialismo, all'egemonia, alla politica di potenza, e metterà in crisi molto seriamente l'idea di democrazia. Infatti nel complesso accadrà questo, che il conflitto di classe farà sì che la coppia concettuale capitalismo-democrazia liberale e che il capitalismo non sia affatto indissolubilmente legato all'idea di democrazia liberale. Nei paesi non ci siano stati cambiamenti. Certo non c'è stato nessun regime fascista, ma i fascisti sostanzialmente non avevano neanche mai avuto movimenti di massa in quei paesi. Un po' in Francia, con l'Azion Francais, qualche altra cosa, l'Olanda per un bellissimo momento, più che altro per l'occupazione nazista, ma in Inghilterra e negli Stati Uniti i fascisti non abbiano stati un gruppetto irrilevante. Questo non significa che però le tendenze all'autoritarismo e all'imperialismo e all'imperialismo attrazione militare non abbiano in qualche modo intaccato anche questi paesi. Dunque, tendenzialmente, perché poi l'imperialismo è quello che ha portato alla guerra, quindi se vogliamo dire che il fascismo o il nazismo sono prodotti della guerra, sì, però la guerra a sua volta è un prodotto delle tendenze imperialistiche del capitalismo e della seconda modernità. va detto che, tra l'altro, se la Germania ha perso la guerra, l'Italia l'ha vinta, ma in fondo è come se l'avesse persa con il cattivo andamento delle trattative che porterà al mito della vittoria mutilata. tra il Giappone la guerra era vinta e, anche se non ha avuto particolari espansioni, comunque ne era uscito abbastanza bene, oppure ha avuto quel tipo di tendenza, e per le ragioni che vi ho detto. Quindi, guardate che fascismo, nazismo, regimi castrensi non sono funghi che sono spuntati all'improvviso perché c'è stata la guerra, la pioggia, no, intanto perché, come abbiamo sottolineato, c'è stata l'anticamera dei nazionalismi, che è stata presente quasi dappertutto, che ha spianato ideologicamente e culturalmente la strada al fascismo. E quindi non c'è nessuna parentesi, altro che parentesi, il fascismo è stato un prodotto in linea con la rottura operata dalla seconda modernità, è stato totalmente funzionale ai processi della seconda modernità, nei paesi più deboli che si affacciavano alla modernità, quelli che noi abbiamo identificato come la Caoslandia europea, Germania e Italia, molto diversamente potremmo parlare del Giappone, in parte la Russia è stata anche questo perché la Russia del 1917 era a suo modo anche una sorta di Caoslandia che ormai anche militarmente beccava batoste uno e due tra l'altro. Quindi in realtà il fascismo non è separabile né per le sue radici storiche né per la sua funzione contemporanea al tempo che ha vissuto, non è separabile dal modello della seconda modernità. Certo c'erano altri pezzi, c'era il mondo occidentale che restava comunque legato alla democrazia liberale, c'era la Russia che aveva tentato la carta della rivoluzione bolshevica, come vi ho detto durata molto poco, è subito sostituita da una parziale restaurazione zarista dal ritorno di un modello di imperialismo a trazione militare. E quindi come si vede queste tendenze sono già tutte presenti e portano alla crisi della democrazia anche nei paesi liberali classici, dove sì certo rimane il modello classico, però attenzione non senza mutamenti, primo, e comincia ad affacciarsi l'idea di sostenere l'impresa privata, quell'economia di mercato teorizzata come modello assolutamente perfetto, con un intervento statale. E tant'è vero che qualcuno parlerà di qualche storico, scriverà qualche libro sui tre New Deal, quello americano, quello tedesco, in una certa misura possiamo anche accomunare quello italiano e in qualche modo anche quello russo. Tutti modelli di espansione industrialista basati sulla azione attiva dello Stato e spesso dell'industria militare finanziata dallo Stato. Non solo, ma per esempio anche in questi paesi ci sarà un'insasperazione della lotta di classe e non sempre contenuta in limiti come quelli pensati fisiologici all'interno di una società liberale. Negli Stati Uniti non ci sarà lo squadrismo, ma ci sarà l'uso del gangsterismo contro le organizzazioni del movimento operaio. Questo viene spesso rimosso, ma guardate che questo c'è anche negli Stati Uniti. c'è poi un'altra tendenza pochissimo esaminata, la tendenza a espandere l'area del segreto. Certo, lo Stato profondo c'è sempre stato, ha anche avuto i suoi margini di riservatezza, di segreto, per carità. Il segreto militare, il segreto di polizia, c'è sempre stato. Però, attenzione, per esempio, un paese come gli Stati Uniti da sempre contrario all'istituzione di una polizia politica o di servizi segreti e poi, durante questo periodo in particolare, alla fine, quando culminerà lo scontro con la Seconda Guerra Mondiale, si doteranno di servizi segreti, prima pensati solo per la guerra, poi invece confermati. Confermati per tutto il periodo del bipolarismo, che meriterebbe una trattazione a sé che qui non abbiamo il tempo di fare. Anche nei paesi di questo genere c'è stata una crisi del modello democratico perché c'è stata una forte difficoltà ad integrare le masse nel sistema politico. C'è stato poi un altro aspetto. La tendenza all'imperialismo militare, comunque a politiche di potenza, eccetera, ha sviluppato una cosa che prima non c'era obiettivamente nei paesi della modernità classica, la comparsa di una tecnologia sempre più distruttiva. Pensate all'arma atomica. Questa è una cosa che, sì, certo c'è sempre stata una certa ricerca tecnologica, militare, le armi automatiche, non so, i cannoni di particolare calibro, sì, va bene, anche i carri armati, però, attenzione, buona parte di questa cosa appartiene alla Seconda Modernità, non è precedente. E soprattutto culmina in due guerre mondiali con la comparsa dell'arma atomica. D'altro canto, anche altri aspetti, come per esempio l'eugenetica, che tutti pensiamo una vergogna dei regimi fascisti della Germania che mandava in campo di concentramento, i soggetti malformati o comunque con tare particolari, con gente. Ma guardate che negli Stati Uniti era lo stesso. Le pratiche eugenetiche per cui i sottouomini, come avrebbero detto i tedeschi, erano soppressi. E negli Stati Uniti è stata una prassi negli anni venti e trenta che andava come l'acqua fresca. E questo denota una mentalità autoritaria. Dunque, la versione classica presenta diversi aspetti di vulnerabilità. In primo luogo non regge proprio l'idea della parentesi, ma quale parentesi? Intanto questa parentesi ha delle radici molto più indietro nel tempo abbiamo detto che la manifestazione piena della seconda modernità è stata nel 1869-71 con la trasformazione di Germania, lo scontro fra Germania e Francia, la trasformazione del Giappone, il fascismo in Italia, che però viene preannunciato dalle tendenze alla conquista di Roma, che lancia l'imperialismo italiano, proprio simbolicamente anche. Ecco, perché il canone classico ha avuto bisogno di questa teoria della parentesi? Esattamente come Croce. E guardate che non credo che i sociologi che hanno teorizzato la modernizzazione conoscessero in particolare, qualcuno forse sì, ma non credo che la lettura di Croce fosse la più diffusa. Croce a sua volta, a parte che è morto nel 52, quando ancora queste teorie dovevano più o meno raggiungere la loro maturità, ma Croce a figura non avrebbe mai letto queste cose perché riteneva che la sociologia non fosse una cosa seria. Dunque, il problema è che i teorici della modernizzazione, in parte hanno vissuto l'innamoramento per la modernità che ha riguardato per esempio anche Marx, ma c'era qualcosa di più. c'era la necessità di nascondere una serie di aspetti scomodi e appunto le tendenze autoritarie e i liberali che si manifestano un po' dappertutto. la crisi finanziaria del 29, che conferma la tendenza alle crisi tipica del primo modello, ma la esaspera, e la esaspera perché c'è una crescente tendenza all'interdipendenza internazionale. Quindi, vedete, c'è la stessa dinamica patologica di prima, ma in una proiezione molto più internazionale. Questa è una cosa molto importante. Soprattutto c'è la rimozione dello scontro di classe, che si riflette anche nella storia del fascismo, perché in fondo anche Croce, già con il suo manifesto degli intellettuali antifascisti, a mio avviso una delle opere di teoria politica più inutili che siano mai state scritte, la mette sul piano della difesa della libertà, ma non riesce a capire il nesso fra libertà e diritti sociali. Guardate come questo ritorna oggi con le battaglie sui diritti. In epoca di globalizzazione, diritti vissuti come diritti civili, ma separati dai diritti sociali. Guardate come queste cose sono rimaste, continuano, altro che essere rimosse. C'è anche un aspetto, i teorici della modernizzazione tendono a rendere i mutamenti di classe che sono intervenuti, guardate tanto nelle classi lavoratrici quanto nelle classi dominanti, nelle classi proprietarie, e ci sono stati tutta una serie di mutamenti che vengono ridotti da questo approccio sociologico in termini meramente quantitativi. Per esempio la nascita del ceto medio, per dirne una, con lo sviluppo dei servizi, del pubblico impiego, eccetera, non è solo un fatto quantitativo, modifica la struttura della società. La società da un modello di tipo, o so chi direbbe, passa dal modello dicotomico, tendenzialmente dicotomico, a un modello triadico per cui c'è questa fascia intermedia che tra l'altro ha un certo spessore numerico che cambia le condizioni allo scontro di classe, e guardate che questo inizia già nella seconda modernità. Il fascismo realizza l'operazione della base di massa reazionaria essenzialmente con la radicalizzazione dei ceti medi. Questo non viene particolarmente esaltato, viene considerato molto frettolosamente. Ma anche le classi proprietarie, pensate a una cosa iniziale, per esempio al prevalere della finanza, pensate al mutamento della figura fra proprietà e manager, è dopo la crisi del 29 che c'è una tendenza a separare l'imprenditore dalla gestione. L'imprenditore diventa meramente proprietario, sceglie i dirigenti, sceglie i manager, ma non dirige lui direttamente l'azienda. E i manager a loro volta avranno un'ulteriore evoluzione di tipo culturale, se vogliamo. Nell'epoca più recente i primi manager erano essenzialmente ingegneri che sapevano come organizzare la produzione, che conoscevano bene la tipicità del prodotto della propria azienda e quindi l'organizzazione del lavoro necessaria. Ma a partire già dagli anni 60 in modo intercettibile e poi via via, soprattutto con il crollo dell'Urso, quindi l'affermarsi del modello neoliverista, guarda caso i manager non saranno più prevalentemente ingegneri, ma avvocati oppure esperti di transazioni internazionali, di transazioni finanziarie. Il modello non è più quello di realizzare il profitto sul mercato, altro che l'economia di mercato, è quello di realizzare valore. Infatti si parla di realizzazione del valore attraverso il gioco finanziario. È la definitiva vittoria della finanza sull'economia reale che viene scaricata sui paesi in via di sviluppo. Quindi in realtà è l'avverarsi della profezia di Sombart, il quale aveva sbagliato per quanto riguarda il suo antisemitismo, certamente questo era inaccettabile. Però guardate che nel ritrarre le tendenze del capitalismo a lui contemporaneo ci aveva preso, sono le tendenze che poi proseguiranno dopo, sfociando in questa cosa. E quindi ecco cosa ci cambia, considerare il fascismo non più nei ristretti limiti del ventennio e solo a livello nazionale o al massimo con qualche comparazione fra Italia e Germania. Giappone è completamente ignorato, Spagna e Portogallo sono fenomeni marginali. No, no. Avere questa idea del fascismo come uno dei pezzi qualificanti fondamentali della seconda modernità, anche se poi ne uscirà sconfitto. Ma attenzione, non senza conseguenze. tutta una serie di aspetti, per esempio il ruolo dell'industria militare in quella che verrà definita il welfare state, cioè quindi non il welfare state, ma lo Stato che si basa sull'industria militare, l'economia basata sull'industria militare. Questo poi si aggiunge anche un'altra cosa, che per la verità nella seconda modernità ha uno starnuto negli Stati Uniti, il ruolo per esempio della malavita organizzata, il ruolo delle mafie, che assolutamente non era immaginabile, un ruolo di una malavita finanziariamente influente. Fino al Settecento c'era stato il fenomeno della pirateria, che però insomma è piuttosto circoscritto, controllato dallo Stato, che per lo più armava le bande dei corsari, le autorizzava, va bene. Però lo starnuto è il proibizionismo negli Stati Uniti, è la nascita della mafia imprenditrice. Il primo segnale è il segnale dell'As Vegas, poi ce ne saranno altri, l'Italia molto meno, avrà la mafia come fenomeno caratterizzante, con un momento in cui verrà messa fra parentesi del fascismo, ma tendenzialmente diventerà mafia imprenditrice dopo la guerra. Un po' prima sarà il caso del Giappone, dove la Yakuza già ha una capacità di influenza quantomeno politica nelle vicende di Corea, nell'assorbire la Corea nell'intero sostanzialmente, già dai primi del secolo, del 1904 e poi via via. Quindi iniziano ad esserci degli starnuti che preannunciano quello che verrà dopo. E allora capite che fare i conti con il fascismo all'interno della sua concreta cornice storica e non la cornicetta nazionale dei vent'anni, ma con il lungo periodo da cui trae le sue radici, le sue dinamiche, i suoi progetti, la sua cultura, è fare i conti con la modernità. Quello che in qualche modo ci porta a ripensare questo fenomeno che noi identifichiamo come fenomeno identitario dell'Europa e dell'Occidente in generale. E questo a sua volta ci porta a ripensare la globalizzazione che infatti sta vivendo la crisi attuale. Quindi come vedete non si tratta solo di una querelle di natura storiografica, ma di qualcosa che poi si abbatte pesantemente sul nostro presente storico e colpisce l'idea che noi abbiamo di noi stessi della funzione dell'Europa nel mondo, anche degli Stati Uniti naturalmente, e del progetto del come affrontare le crisi che si stanno prospettando a cominciare dalla grande tempesta, dalla tempesta perfetta che inizia a profilarsi dove pandemia, guerra, crisi finanziaria, anche mutamento climatico, quest'altro regalo, interagiscono fra di loro creando appunto quello che è la tempesta perfetta, cioè il feedback positivo che riproduce la turbatità e sviluppa tendenze ampiamente autodistruttive. Come vedete non si tratta solo del fascismo, il fascismo è un pezzo di questa strada che non ha senso separare da tutto il percorso, si perde il senso dello stesso fascismo. Mi auguro che questa serie sia stata di vostro gradimento, magari tornerò con qualche singolo video qua e là, come per esempio vi ho detto il caso di Bagno, come per esempio alcuni aspetti propri del fascismo, la vicenda dell'ovra. Mi piacerebbe fare una live insieme al mio amico Mauro Canali su questo, ma questo poi man mano saranno elementi integrativi di questo che io credo essere l'approccio più promettente nell'analisi del fascismo. la cui interpretazione è un momento necessario di passaggio della storia della modernità. Grazie e arrivederci.